Sono cominciati a Castellamonte i lavori finanziati sulla missione 5 del PNRR per trasformare l'ex ospedale nel cuore della città in un Civic Center che ospiterà il raddoppio della biblioteca, l'archivio comunale, il centro aziani e la ceramicoterapia. La città metropolitana di Torino, con la presenza del vice sindaco Jacopo Suppo e della consigliere delegata allo sviluppo economico Sonia Cambursano, ha voluto rimarcare la scelta di destinare i fondi al territorio per favorire l'inclusione sociale. La città metropolitana di Torino ha fatto una scelta precisa, cioè quella di far atterrare sui territori i finanziamenti relativi a questa missione 5 che riguarda l'inclusione sociale e la riqualificazione urbana. Il sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza, anche lui consigliere metropolitano, ha dato appuntamento alla primavera 2026 per l'inaugurazione. Le iniziative sono, come abbiamo detto, il raddoppio della biblioteca, il rifacimento del centro anziani, ma la casa delle associazioni della città all'ultimo piano, l'archivio comunale, è una serie di servizi sociali e poi una ciliegina sulla torta che è la ceramicoterapia. Quindi con i ceramisti faremo delle cose per i ragazzi. I lavori sono finanziati per poco meno di 4 milioni di euro. L'intervento previsto sull'edificio denominato Exospedale di Castellamonte prevede l'adeguamento antisismico e il potenziamento dal punto di vista energetico per poter riutilizzare l'intero fabbricato per scopi socioculturali, restituendo uno spazio pubblico ora in parte inutilizzato all'intera comunità. Sono circa 80, di cui moltissimi con cantieri già partiti, i progetti di inclusione sociale finanziati dal PNRR a regia di città metropolitana di Torino. Siamo riusciti a far atterrare sul territorio oltre 220 milioni di euro di risorse pubbliche proprio per progetti di riqualificazione urbanistica con l'attenzione appunto di creare dei luoghi di comunità. Abbiamo più di 80, 85 cantieri programmati sul nostro territorio, di questi oltre 20 sono già operativi. Oggi siamo qui a Castellamonte per tagliare il nastro di questo importante cantiere per il territorio non solo di Castellamonte ma dei paesi limitrofi che vedrà la riqualificazione di quello che un tempo era l'ospedale civico che poi nel tempo è diventato biblioteca, oggi diventerà un civic center, un luogo dove i ragazzi e le ragazze e tutti gli abitanti di Castellamonte potranno ritrovarsi, potranno fare cultura, fare aggregazione, fare comunità e questo grazie all'impegno di città metropolitana.